Dopo le prime tre tappe, il roadshow dei nuovi Laser TV BenQ V7000i e V7050i è approdato a Roma da Gruppo Garman, già teatro di numerosi eventi con AV Magazine. Gli ambienti che Gruppo Garman ha dedicato alla proiezione sono tre. Un primo ambiente nella zona Conference, dove possiamo osservare un Laser TV Samsung LSP9T con sorgente luminosa trilaser e schermo Vivid Storm da 100 pollici con salita dal basso. Trovate il testo AV Magazine con il link nella descrizione. Nel secondo ambiente c'è il sistema principale, con impianto Dolby Atmos in configurazione 7.2.4, schermo Screen Line Wave Multiformat da 2,6 metri di base, illuminato per l'occasione del proiettore BenQ VW5007, un campione del rapporto qualità-prezzo nella sua fascia, ovvero 2.500 euro. Tecnologia DLP, risoluzione 4K, ottica con zoom 1,6x, lens shift orizzontale e compatibilità con segnali video sia HDR10 che HLG. Nel terzo ambiente, ovvero nella zona living, audio-video, attrezzata con sistemi audio-stereo, tv e proiettori, c'era la star di questo evento. Il nuovo Laser TV BenQ è un DLP4K a tiro cortissimo, che qui vediamo nella versione bianca, ovvero V7000i. Ha una sorgente luminosa ibrida con laser e fosfori, una ruota colore a 6 segmenti con spazio colore molto ampio, anche senza attivare il filtro DCI-P3 comunque presente. C'è un nuovo firmware con modalità filmmaker mode, prestazioni elevate e un rapporto qualità-prezzo da primo della classe. 3.799 euro, IVA inclusa, con schermo ALR da 100 pollici, in omaggio fino a fine novembre. Per maggiori informazioni sul BenQ e sul gruppo Garman, trovate tutti i link nella descrizione.